Mettere in moto meccanismi di innovazione capaci di sollecitare lo sviluppo di tecnologie sempre più efficienti a costi bassi, potrebbero incentivare l'espansione della domanda? Direi senz'altro di sì, è un discorso questo che ha validità del tutto generale, ogni volta che c'è innovazione il mercato è predisposto a raccogliere le innovazioni, tant'è che molto spesso le innovazioni vengono anche centellinate proprio per consentire al mercato di recepirle. Questo è vero anche nella geotermia, ci sono stati negli ultimi anni molti progressi tecnologici però non sono sufficienti a mio giudizio anche perché questo lo dimostra che all'estero è molto più diffusa la geotermia e la bassa interpia di quanto non sia in Italia. Probabilmente sono necessari anche alcuni interventi di carattere di sostegno, di sostegno anche finanziario, in quanto nelle ristrutturazioni sono previsti degli incentivi che nella nuova costruzione non sono previsti in misura altrettanto importante. Questo in questo settore della geotermia bassa interpia che è un settore molto interessante però richiede degli investimenti iniziali significativi potrebbe senza altro aiutare.